sabato 6 agosto siamo lieti di proporvi un sabato notte da numeri 1 suonerà per voi mister anthony romano purple music è la migliore animazione from ibiza tutto questo ha un solo nome villa ermosa sabato 6 agosto anthony romano next event giovedì 11 agosto la regina dell'house music juicy consoli the revolution is coming villa ermosa infotavoli 347 15 01 475 info 349 71 40 563 villa ermosa